Anche l'Abruzzo partecipa ad Artigiano in Fiera, la manifestazione internazionale dedicata all'artigianato in programma fino a domenica 10 dicembre alla Fiera di Milano-Rò. Inaugurata sabato 2 dicembre, la 27esima edizione della vetrina delle imprese e dei maestri artigiani è presenziata dalle eccellenze regionali. Alla Fiera di Milano-Rò, anche quest'anno, si rinnova il connubbio tra la Regione e le cannele di commercio che ha permesso di unire le forze e garantire alle tante imprese artigiane abruzzesi di essere presenti alla manifestazione. La risposta delle imprese abruzzesi è stata entusiasta e conferma quanto sia accreditata la manifestazione di Milano e quanto essa possa incidere sulla promozione del prodotto artigianale. Ha dichiarato l'assessore regionale al turismo Daniele Damario, partecipando alla cerimonia di inaugurazione di Artigiano in Fiera. Sicuramente è un'opportunità di visibilità incredibile, visto che le 54 aziende artigiane abruzzesi che partecipano alla manifestazione avranno la possibilità di esporre i propri prodotti a una manifestazione che l'anno scorso ha fatto un milione di visitatori. Quindi sicuramente è una vetrina importante, è una vetrina d'eccellenza e noi come Regione Abruzzo non potevamo non sostenere le aziende che volevano partecipare a questa manifestazione così importante. In un'area espositiva di 750 metri quadrati, l'Abruzzo accoglie quest'anno 54 imprese, 17 in più rispetto all'anno scorso presenti con un proprio stand all'interno dello spazio dedicato alla nostra Regione. Una manifestazione a cui partecipano un milione di persone, sicuramente una vetrina importante anche per il nostro turismo. È evidente che le nostre aziende artigiane rappresentano sicuramente un biglietto da visita importante per la nostra Regione e quindi essere qui con le nostre imprese, essere qui anche con un padiglione dedicato alle nostre bellezze naturalistiche, al nostro Abruzzo è sicuramente una manifestazione importante e quindi è evidente che partecipare a manifestazioni di questo genere rappresenta un volano importante per le nostre aziende artigiane ma sicuramente un volano per la visibilità del nostro Abruzzo. Artigiano in Fiera rappresenta una vetrina internazionale capace di mettere in evidenza il Made in Italy e promuoverlo. L'ulteriore specifica del Made in Abruzzo territorializza l'offerta, legandola anche a quella turistica. Oggi chi sceglie di passare una vacanza in un territorio, chi sceglie di venire in Abruzzo lo fa anche perché sa di trovare delle eccellenze gastronomiche che non hanno nulla da invidiare nelle altre Regioni. Oggi è di gran moda il turismo esperienziale e quindi fare esperienza nei borghi, nei tanti bellissimi borghi abruzzesi, significa anche imbattersi in prodotti di eccellenza che rappresentano un biglietto da visita importante per la nostra Regione.